1975 avevo 19 anni e ho iniziato a lavorare come insegnante elementare dopo due anni 1977 ho avuto l'occasione l'opportunità di iniziare un'esperienza che è diventata di lavoro e vita un sotterraneo di una scuola piano piano è diventato un centro un centro di cinema d'animazione sono 40 anni di lavoro di cui 38 passati nello stesso luogo stessi percorsi periferia sud di torino via arton via mille lire ho pensato di questo tempo di individuare dieci aspetti che sintetizzano che racchiudono questi 40 anni il primo è proprio l'affermazione che il mio lavoro è stato e continua a essere anche la mia vita tanto da non riuscire a tracciare separare in modo evidente lavoro vita vita e lavoro anche perché ho scelto di abitare in questo territorio di viverlo come impegno sociale qui mi sono sposato qui ho costruito la mia famiglia un secondo aspetto è il divenire ho iniziato con la fotografia le diapositive i via tape poi il cinema soprattutto il cinema d'animazione con la pellicola super 8 16 mm e poi il passaggio al nastro magnetico il vhs o il tre quarti e poi l'era del digitale questi cambiamenti sono coincisi anche con i cambiamenti del quartiere con i cambiamenti della mia famiglia i miei figli sono nati nel vhs ogni fase ha portato dei cambiamenti delle esperienze originali ogni cambiamento ha segnato la fine di qualcosa ma anche l'inizio di un altro il divenire del mio lavoro continua a farmi pensare al domani al futuro ogni film finisce ogni racconto ha un termine ma contemporaneamente non si smette di fare altri film di fare altri racconti un terzo aspetto sono gli incontri che vuol dire le persone gli altri vuol dire avere il privilegio di relazioni con bambini ragazzi giovani adulti e i colleghi o meglio i miei compagni di lavoro ho avuto la fortuna anche di avere incontri con dei personaggi emanuele luzzati da cui ho imparato la tecnica del cinema d'animazione piccardo sepulveda per emprunner ferrarotti daniele novara marilena e poi andrea che ci ha aperto con i giovani a una dimensione europea e internazionale e tanti tanti altri e da tutti anche da quelli che non ricordo il nome ho imparato e soprattutto vissuto pezzi o pezzettini minuti o ore o giorni o anche anni un quarto aspetto è il territorio dove lavoro e vivo periferia di città con le sue contraddizioni povertà bellezze che ho visto mutare cambiare evolversi che mi ha dato una prospettiva di vedere e vivere le cose non dall'alto ma con una visione dal passo e poi il fare la manualità il cacciavite in un laboratorio come in famiglia c'è sempre qualcosa che si rompe che bisogna aggiustare il laboratorio è una dimensione dove tocchi pasticci costruisci disti rifai inventi spesso mi piace più che la definizione di insegnante che mi fa venire in mente il trasmettitore di sapere quella del l'artigiano dell'educazione 40 anni sono stati anche 40 anni d'ascolto con il passare degli anni ho imparato di più a fare silenzio perché con il silenzio è più facile ascoltare i bisogni delle persone i bisogni di un quartiere che cambia che si trasforma altra parola chiave la felicità lo star bene ogni volta che con una classe si inizia un film diciamo che la cosa più importante è fare una buona esperienza divertirsi migliorare i nostri rapporti e così è più facile anche imparare in tanti anni ho usato il lavoro per vivere bene per valorizzarmi e questo non solo con i tanti premi e riconoscimenti avuti ma ad esempio in autunno vesto i panni del castagnaro con i bambini e riesco a vivere la magia del movimento delle lingue del fuoco del rumore del legno che brucia del crepitio delle castagne rivivo la tradizione delle mie origine contadine del cuneese del mio paese e tutto questo lo mescolo con il cinema tanto da essere riuscito a fare anche un film d'animazione dal titolo cinema in castagna e poi sono stati anche 40 anni di fantasia di creatività in laboratorio diciamo sempre ai bambini di accendere il bottone della fantasia e bisogna cercarlo perché questo aiuta a pensare al futuro al domani la fantasia è una delle chiavi della libertà se non sei libero se sei condizionato non puoi essere creativo sei prigioniero di qualcuno o di qualcosa io mi sento libero riuscire a usare poi un linguaggio che comprende la parola il disegno la musica come il cinema consente di praticare e vivere la comunicazione e anche questo è stato un aspetto che ha caratterizzato il mio tempo di lavoro e per ultimo la passione soprattutto la passione per il cinema il cinema d'animazione quel cinema fatto con i bambini con i ragazzi che tutto comprende e tutto racchiude e quindi qui